Sono sempre al NAB 2017 per mostrare le ultime soluzioni che Soliton ci propone sempre nell'arco zen. La soluzione è la Soliton Zaos, che è il fratello più piccolo della Soliton che abbiamo già presentato l'anno scorso e rappresenta la soluzione più economica ma ugualmente efficace e di qualità della famiglia Zaos. Il sistema si compone di un zainetto che può ospitare fino a tre connessioni 3G o 4G, arriva fino a un bitrate di 5 megabit in full HD, permette di fare anche, dalla parte di ricezione con il software che viene incluso, il transcoding in H.264 per le piattaforme web tipo YouTube, Ustream, Facebook e così via. È un ottimo prodotto e soprattutto il prezzo è significativamente interessante perché siamo intorno ai 7500 euro preso il software di ricezione. Qui accanto abbiamo il sistema, diciamo, più importante della famiglia Zaos, che è il Zaos. È un sistema che ha le stesse caratteristiche dal punto di vista di encoding. È un sistema più piccolo, una riga, fino a 10 megabit di encoding, con la possibilità di poter connettere fino a 6 modem USB, più una connessione wired e una wireless. Anche questo viene fornito con software che però in ogni caso viene votato a parte, che può ricevere fino a 4 dispositivi. Grazie! 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 Grazie!